Tecno Gabbia, la Repubblica Digitale di Vittorio Colau Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno Ribelle Il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colau ha finalmente calato la maschera e l'ha fatto nella sede romana della situazione stampa estera puntando all'ambiziosa leadership del nuovo Tecno Ordine Continentale Ai più distratti sarà infatti sembrato un déjà vu propagandistico del Berlusconi anni 90 a quello delle tre I, Internet Informatica e Impresa Digitale invece è stato il ventriloco di Klaus Schwab della Quarta Rivoluzione Industriale L'Italia o meglio la Repubblica Italiana Digitale secondo Colau dovrà infatti essere capofila della Schengen Digitale Europea cioè il potenziamento del Green Pass nell'identità digitale in QR Code finalizzata al Wallet System sullo smartphone cioè la replica nostrana del sistema di credito sociale cinese per carta di identità, passaporto, patente di guida, tessera elettorale fascicolo, sanitario, scuola e pubblica amministrazione da remoto entro i prossimi 4 anni diritti e servizi trasformati per tutti in offerta liquida gestiti da algoritmi e intelligenza artificiale per una visione dell'Italia più semplice della quale siete abituati e allora per ora a noi serve il dato poi vedremo appellandosi al datismo come volano dell'operazione ha detto l'ex top manager delle multinazionali facendo intendere il graduale step by step di un'agenda 2030 a lunga gittata forte degli oltre 40 miliardi di euro da Bruxelles gettati a pioggia sulla sua scrivania col piano nazionale di ripresa e resilienza per la gestione post-covid-19 11 dei primi 20 miliardi già allocati in un anno Colau col suo staff non a caso avvolto scoperto tra giornalisti invece rigorosamente con mascherina nel prosegua critico della narrazione emergenziale perenne ha poi dichiarato guerra non solo al cartaceo ergo indirettamente al contante in funzione criptovalute ma pure ad un eventuale futuro tecno scettico prevista una tecno gabbia a prova di ipotizzati prossimi esecutivi tecno scassinatori creati una serie di elementi che vanno oltre l'orientamento politico del governo avete capito bene? Eh sì, perché quando si tratta di super elite mondialiste e poteri forti, Parlamento e politica nazionale si riducono a mero simulacro di loro stessi ad orpelli, superflui, inermi e sterilizzati proprio come in opportuna istantia e oggi la carta costituzionale è tanto impellente il traghettamento la corsa forzata degli italiani verso il futuro che non c'era per un'Italia migliore attenta e competitiva ha detto l'ex McKinsey ex Vodafone, ex Verizon parlando pure del 5G dallo spazio e fibra ottica per coprire il 99% del territorio nazionale ambendo anche, ormai lo sanno pure i sassi ad innalzare di 110 volte i limiti sogli ad inquinamento elettromagnetico finendo dai 6 ai 61 volt per metro nella potenza di agenti possibili cancerogeri irraggiati nell'area pubblica ma tra tutti oltre privacy, crimini informatici sistema di sorveglianza sociale e indirizzo etero diretto dei nostri comportamenti presto lobotomizzati volete sapere qual è il primo dei problemi? fingere di non capire come oltre ad un trattamento sanitario obbligatorio la tecnocratica transizione digitale sarà iniqua e non inclusiva nell'assenza di nuove rivendicazioni come il diritto all'autodeterminazione digitale e il diritto alla disconnessione perché tutti i de-digitalizzati e disconnessi per scelta le fasce di popolazione senza telefono cellulare e tutti i malati ambientali costretti a rinunciare al wireless per sopravvivere entro il 2026 potrebbero diventare i nuovi esclusi i nuovi pari agli impuri nella cassa 3.0 imposta dalla tecnodittatura partorita nel grande reset e già perché la discriminazione digitale è più di una semplice minaccia soprattutto se intrapresa da un governo che non coinvolge le parti sociali né tra i tecnici come Colau sarà tanto più tenuto a chiedere conto ai cittadini l'anello debole dell'intera catena per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G Salute, Ambiente, Geopolitica, Privacy, Transumanesimo Controllo Sociale Libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla Casa del Sole TV appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci